Prende sempre più forma la nuova pavimentazione della città. Nei giorni scorsi il vice sindaco Raffaele Daniele ha effettuato un sopralluogo a Piazza Palazzo. I lavori inizieranno a breve per la scelta della pietra da usare che sarà bianco perlata per evitare problemi di pulizia e manutenzione anche se sul corso si sta sperimentando un nuovo sistema più efficace per pulire. Piazza Palazzo fino a San Bernardino resterà carrabile. La scelta è stata fatta con la soprintendenza che ritiene il bianco un coloro appropriato. I lavori potranno partire a breve. Dentro tre mesi termineranno. La pavimentazione si estenderà sì nei quattro cantoni ma la differenza con quanto già fatto sarà impercettibile per rendere tutto armonioso. Contemporaneamente si faranno anche Piazza Chiarino e Piazza del Teatro. Il comune ha chiesto ulteriori 90 milioni per terminare la pavimentazione e si ripartirà entro pochi giorni anche con il lavoro in Piazza Duomo. Sarà come quella che c'era nel 1400 però in chiave maggiormente moderna. L'Aquila si appresta a diventare una delle città più belle d'Italia. Un appello agli aquilani e a tutti quelli che vengono a visitare la nostra città averne un po' di rispetto e di cura perché registriamo veramente atti a volte di inciviltà. Comunque partiremo con Piazza Palazzo, Piazza Chiarino, Piazza del Teatro, poi il Cardo e il Decumano saranno completati. Attendiamo i finanziamenti del PNRR per rifare i quattro quarti ciascuno con delle peculiarità straordinarie. Inutile dire che è bellissimo diciamo il nuovo corso con questa pavimentazione. Viene molto apprezzato anche dai turisti. C'è stato qualche problema per la manutenzione e la pulizia legata anche all'inciviltà. In molti casi questo bisogna dirlo. State sperimentando anche dei sistemi nuovi per rendere la città sempre più pulita? Sì assolutamente. L'unica cosa le gomme americane quelle nonostante abbiamo messo dei cestini ogni 10 metri praticamente e la gente continua a buttarle per terra. Faremo una campagna di sensibilizzazione perché questa città, la bellezza di questa città dipende anche da noi. Piazza Duomo, i lavori sono iniziati, diciamo si sono interrotti come si farà poi anche a Natale diciamo per permettere le manifestazioni. C'è stata ad esempio la perdonanza, si ricomincia, anche lì si vuole andare abbastanza veloci per restituire il cuore della città ai cittadini. Ritmo serrato, oggi è stato aggredito l'elizia centrale che avrà un colore più scuro rispetto alla parte laterale che avete visto senza marciapiedi per dare un respiro. La piazza è di circa 12.000 metri quadrati. Quando sarà priva di automobili e di barriere architettoniche sarà uno spettacolo vero.